L'ultimo sogno si svegliò madido di sudore. In viso un sorriso non comune, ampio, raggiante, quasi felice. La madre entrò in punta di piedi per non svegliarlo. Lo vide radiante in volto e si intenerì stupita. Non ricordava l'ultima volta che lo aveva visto sorridere. Lei pensionata, il marito operaio, stentavano ad arrivare alla fine del mese. Con i risparmi di una vita avevano finalmente comprato l'appartamento nella zona malfamata della città. Aiutati dalla fortuna in tarda età, avevano concepito questa creatura che ora si stiracchiava là, in mezzo alle lenzuola, pallida, maradiosa, sorridente e sudata. Il giovanotto si alzò ed entrò in bagno, poi nella piccola cucina. Sedette sulla sedia sgangherata, sorseggiò il caffè, si alzò con riluttanza dal tavolo, baciò in fronte la madre ed accarezzò le spalle del padre, intento a leggere un giornale. Poi uscì. Aveva ventidue anni, ma ne dimostrava di più. Esile alto, leggermente curvo. Era operaio in una fabbrica di scarpe. Stipendio ridicolo, orario massacrante, contributi e vacanze non retribuiti. Tirava a campare, come diceva lui. Sulla strada che lo portava al lavoro, i capelli ricci si confondevano con le nubi scure, incombenti, alle sue spalle. Non aveva un soldo. La povertà lo rendeva poco interessante, anche fisicamente, peggiorando nell'aspetto. Stampata in viso, un'aria di perenne mestizia. Nulla lo rendeva attraente. Dava l'impressione di uno di quei vecchi edifici screpolati, crollanti, da cui è meglio tenersi lontani. Lui stesso non capiva. Si guardava raramente allo specchio, non curava l'aspetto e vestiva sempre gli stessi abiti sdruciti. I suoi giorni erano lunghi, tediosi e monotoni. Avrebbe voluto, quando si lavava i denti al mattino, sputare su quella creatura che vedeva davanti a sé allo specchio. Sulla vita di ragazzo invecchiato precocemente e su quel destino che lo attanagliava. La parola domani lo rendeva ansioso, inquieto e gli toglieva l'appetito. Ogni risveglio si era tramutato sempre di più in una specie di incubo. Si svegliava con i pugni stretti, come ebbro, e non desiderava aprire gli occhi. Voleva dormire ancora. Stare lontano da questo mondo, non esistere. A volte bestemmiava. Altre si inghozzava in silenzio, come arreso. Unico scampo il sonno. Si, si, il sonno. Aspettava impaziente di andare a dormire. Mangiava pane e yogurt a cena. Qualche volta un po' di formaggio bianco e pomodoro. Stanco socchiudeva gli occhi e accelerava i bocconi. Lavava i denti in fretta e si infilava come un forsennato sotto le lenzuola. Chissà dove l'avrebbero portato allora i sogni. Perché sognava ogni sorta di sogni. Tristi, struggenti, banali, incantevoli, sensuali. Viaggi intorno al mondo, specie in luoghi esotici. Ma aveva anche incubi. Allora si svegliava terrorizzato. Però con tanto materiale per vincere la monotonia. Proprio il sonno e i sogni gli avevano permesso di trovare un equilibrio nella sua esistenza. Il sonno occupa un terzo del tempo di vita. Allora non si sentiva così disgraziato. Si poteva godere di una felicità dormiente pressoché perfetta. Intenzionalmente poteva iniziare a sognare ad occhi aperti anche di giorno sul lavoro o in autobus. Si creava una sorta di limbo immaginario e proprio là dava vita alle sue vicessitudini fantastiche. Aveva fatto ormai tante volte ed era diventato esperto. Ora poteva iniziare e finire a comando. In quello stato l'espressione del volto era indecifrabile. Come immagine in trasparenza attraverso una fiamma tremolante. Se stimolato sorrideva schivo, a denti stretti. Chiedeva perdono. Era indifferente a ciò che si pensava di lui. Doveva pur sopravvivere. E così ci riusciva. Se in quel mattino si era svegliato sorridente e sudato. Era perché tre giorni prima aveva compiuto gli anni e i compagni di lavoro gli avevano fatto un regalo inconsueto. Con una colletta avevano pagato una di quelle. Una prostituta. L'aveva incontrata in un bar anonimo. Bevuto un caffè insieme a lei e scambiato qualche sorriso. Poi erano saliti in una camera d'albergo là vicino. Appena entrato si era sentito cedere le gambe e si era dovuto sedere sul letto. Lei, molto più anziana, si era accorta della sua innocenza e di mia esperienza e si era molto infervorata. Per lei il ragazzino era uno di quei fiori rari e candidi. Una specie ormai scomparsa a causa dell'inquinamento pornografico globale. Era molto eccitata e si era subito scatenata facendogli un orale esemplare. Durante la quale giovanotto era venuto due volte e dopo una doccia fulminea lo aveva portato a letto e lo aveva distrutto. Lui che era stato spettatore sin dall'inizio si era ritrovato alla fine coinvolto in un evento magico e grandioso. Dalla finestra semiaperta ora i raggi del sole al tramonto giocavano sui loro corpi sudati e nudi che splendevano di un bagliore dorato. Le sigarette accese ardevano come perle luminose. Il giovinotto non si era mai commosso così. Questa che non era la prima esperienza era però diversa dalle altre. Ma la prostituta scomparve dall'albergo e dalla sua vista dopo averlo baciato in fronte con occhi lagrimevoli. La vita riprese con la monotonia precedente salvo che nel risveglio tre giorni dopo tornava la sensazione di lingua carnosa sul suo sesso. Era questo un sogno che aveva in sé qualcosa di irreale basato su fatti realmente accaduti. Sorrideva per la seconda volta. Così sia che siano di buono auspicio. Il giorno seguente fu stremante. Il sudore gli gocciolava sul viso. L'ansia gli faceva stringere i pugni come tenaglie. Non la fatica. Era la monotonia ora che lo distruggeva. La ripetizione della ripetizione ripetuta. Ogni secondo simile al precedente. Un essere robotico. Scultura bronzea. Bagnata dalla pioggia nella piazza dozzinale del disprezzo. Non sapeva immaginare un futuro. Lo allontanava da sé come mosca fastidiosa. Ma a sera si sarebbe addormentato e i sogni l'avrebbero portato altrove. Alzò gli occhi e vide l'orologio. Sospirò. Realtà divorante. L'indomani si svegliò ancora fradicio. Sorridente ma non come il giorno prima. Mi sembrò incredibile. Aveva fatto lo stesso sogno della notte precedente. Identico. La madre lo scrutava felice dalla porta semiaperta. Entrò nel bagno. Si tolse le mutande intrise di sperma. Una doccia fulminea. Ed è corsa la colazione spartana. E poi al lavoro. La giornata era fredda ma il sole splendeva sopra i suoi pensieri. Per la prima volta gli capitava di ripetere un sogno. Sarà qualcosa di comico. Di quella serata con la prostituta persisteva incantevole lecco nel suo cervello ma fino a questo punto gli sembrava impossibile. Sorriso ironico. Il quarto sorriso. In due giorni. Un record pensò. L'aspettava un lungo giorno di supplizio. L'ignoto di una notte che ancora non aveva un principio né un termine. Il terzo giorno si svegliò in un mare di sudore senza l'ombra di un sorriso. Come spiegarlo? Si trascinò verso il bagno come un pollo bagnato di pioggia eppure d'altro. Aveva una bellezza folle questa verità nuda. Lo stesso sogno. Lo stesso. Il pompino favoloso. La sua cavalcata satanica. Le punte dei capezzoli molestate. La lingua che gli arrivava in gola. E l'eiaculazione nella bocca. Dove neanche una goccia si perdeva. E il lecare l'anguido delle labbra. In la realtà però avevano usato i profilattici. Ma ciò aveva la minima importanza. Era un sogno bello. Magicamente bello. Ma perché ricompariva? Il viso della prostituta non era particolare. Il corpo era spremuto come bastonato dalla vita. E le mani grezze da scimmia domesticata. Allora cosa? Non riusciva a comprendere. Forse stava perdendo il controllo. Forse era caduto nel regno del sonno. Passarono dieci giorni. Il sogno divenne un incubo. I muscoli prima legnosi al mattino erano piastre di pietra. Le macelle dolenti per la contrattura. Gli occhi cambiavano colore. Assomigliava a una sfinge. Ad una salma impietrita. Anche la voce sembrava distante. Metallica. Come prova si era preso un giorno di riposo. E con i risparmi aveva pagato una prostituta molto più bella. Più giovane. Più alta. E soprattutto non era rimasto a far da spettatore. L'aveva girata e pompata per ore intere. Si era veramente divertito tanto. Ciò nonostante ancora lo stesso risveglio con lo stesso e ributtante incubo nel petto. Sembrava che i giorni avessero preso il posto delle notti. Tutto diventava ripetitivo. Ma ora poteva prendere un caffè dopo il lavoro, giocare una mano a carte o andare al cinema o al teatro. Ormai solo di notte si rodeva con angustia. Capisci cosa significa fare lo stesso sogno all'infinito. Diceva a se stesso. L'eterna scopata della puttana. Le stesse mani che ti si viziano ai capezzoli. La stessa e unica posizione sottomessa. La stessa pelle arrugginita sulla tua pelle. Soffriva di insonnia con il passare delle notti e si svegliava decine di volte. Prese dei sonniferi. Lo fecero star peggio, moltiplicando l'angoscia. Assaggiò marijuana e provò una specie di intorpidimento, niente di più. Disperatamente cercò anche di ritrovare la prostituta e di parlarle. Chissà, conoscendola meglio senza idealizzarla, l'avrebbe trasformata in qualcosa di concreto e avrebbe rimosso la causa della sua sofferenza. Ma non riuscì a incontrarla. Se n'era andata, forse per non ritornare mai più. Era entrato in una via senza ritorno. I sogni per lui erano tutto. E un ladro di sogni si era insinuato nel cervello. Aveva razziato tutto, lasciandogli sul tavolo solo una rosa sciupata, con le forme di una semplice scopata. Si sentiva nudo nell'anima e nel corpo. Una tessera di un domino con banali numeri di solitudine stampati sul suo dorso. E nessuno, in questa vita, avrebbe richiamato coi dadi i numeri del suo destino. Mai più. Vedeva Chiara un'unica via di scampo. Quella mattina si svegliò di buon'ora. Fece una doccia prolungata, come non aveva mai fatto. Entrò in cucina e sedette al tavolo. Pallido, cadaverico, torvo ma deciso. La madre lo guardava attonita, senza darlo a vedere. Il padre era un'ombra con un giornale. Si vestì, baciò la madre, accarezzò i riccioli del padre ed uscì di casa. Si diresse verso la fermata dell'autobus, perché sapeva che la madre lo osservava. Ma non vi salì. Aspettò le undici, seduto in un caffè. Le braccia smagrite, color dell'acciaio. Il viso come nube tenebrosa. I genitori uscivano sempre, prima di mezzogiorno, per la passeggiata. Si avvicinò a casa e vi entrò. Estrasse da sotto il letto, dove era nascosta, una corda nuova di zecca appena comperata. Il cappio, preparato da prima, spinse il tavolo sotto il lampadario. Vi pose sopra a una sedia. Vi salì, fece un nodo sul gancio cui era appeso il lampadario. Lo strappò e lo buttò via. I vetri si frantumarono sul pavimento. Si sistemò il cappio intorno al collo mentre saliva sulla sedia. Si legò i polsi stretti, stretti. Era sereno. Era pronto. Gli occhi aperti. Cominciava a sentire il travaglio. Immaginò un sogno ad occhi aperti, uno di quelli a comando. Era stanco e affaticato. Gli occhi gli si chiusero e lui sognò per davvero. Stava sulla cima di una montagna innevata. Indossava un paio di sci coloracissimi che lo accecavano dallo splendore. Si scagliò di sotto. L'aria gelida sul viso sembrò destarlo. Era un altro sogno, un sogno interamente diverso. Ora, finalmente! Sorrise ma era troppo tardi. La sedia tremò e si ruppe sotto i suoi piedi. Barcollò e cadde. Il sogno, a forma di corda, e il sorriso gli rimasero in gola. Era il sesto e ultimo sorriso. Il più sincero di tutti. Due volte vero.